e soprattutto la cosa a cui lavoro costantemente ogni giorno è come supportare tutte le persone che entrano all'interno del gruppo la mia premura primaria, l'evento di oggi è un qualcosa collegato proprio a supportare l'aumento e anche il successo di tutte le persone che entrano all'interno della nostra azienda abbiamo anche questa responsabilità in più e quindi anche opportunità per tutti voi che state all'interno della Toscana S.p.a sappiamo tutti che poi ci sono posizioni anche di crescita e in poco tempo si possono arrivare a crescite importanti tutti insieme li potremo raggiungere ma dobbiamo tutti cercare di prendere un po' di centimetri e qui ci capiamo, no? oggi abbiamo visto un estratto di ogni maledetta domenica cioè i centimetri nel football era per vincere la partita qui è le varie attività, il darsi da fare uscire dalla zona di comfort per riuscire a ottenere i risultati che desideriamo grazie 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 grazie